Adesso chiudiamo gli occhi. Allora, lasciate vagare la vostra mente ovunque voglia andare. E diventate consapevoli di qualunque cosa voi steste pensando. Osservate i vostri pensieri come se fossero un film. E adesso vorrei che vi chiedeste questa domanda. E ricordatevi di aspettare a vedere cosa succede. Chiedetevi. Da dove arriverà il mio prossimo pensiero? E apriamo gli occhi. Appena vi siete fatti la domanda che cosa è successo nella vostra mente? Niente. 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 E quindi avete notato che la mente si è fermata. Quanti di voi hanno letto o hanno sentito dire che occorrono molti anni di concentrazione, studio e pratica per riuscire a liberare la mente da tutti i pensieri. e questo è un errore comune. Voi l'avete fatto in qualche secondo. Secondo. Allora se volete passare il resto della vostra vita sforzandovi e lavorando proprio con notevole sforzo prego accomodatevi ma se mi volete scusare io preferisco farlo nel modo più facile.